Ecco chi sarà espulso giovedì 21 marzo, voto televisivo aperto. E salve amanti dei pettegolezzi nel nostro canale Notizie Pettegolezzo, prima di iniziare questo video, vi invitiamo a iscrivervi al canale, mettere un like e attivare le notifiche per rimanere sempre informati. È un gesto apparentemente minimo, ma per noi è di estrema importanza. L'attesa per la puntata di giovedì 21 marzo del Grande Sorellone è palpabile nell'aria. Le aspettative sono alle stelle, poiché finalmente arriverà il momento di scoprire chi sarà espulso nell'ultimo voto in corso. Con tre concorrenti ancora in gara, l'emozione è alle stelle e l'ansia aumenta memmano che il verdetto si avvicina. Il voto televisivo che si chiuderà questo giovedì sarà cruciale, poiché decreterà l'espulsione e giovedì, per l'esattezza, sarà la semifinale, un momento fondamentale per tutti i concorrenti rimasti. Ma chi sono i tre concorrenti in gara? Simona, Alessio e Federico sono coloro che rischiano di abbandonare la casa più famosa d'Italia. Le loro storie, le loro strategie e il loro impatto sul pubblico saranno analizzati a fondo durante la diretta. Ma cosa pensa il pubblico? Quali sono le previsioni e le preferenze dei telespettatori? I sondaggi sono al centro dell'attenzione, poiché cercano di anticipare il verdetto finale. Ma le previsioni possono ingannare e il risultato finale può sorprendere tutti. Ma scopriamo insieme cosa indicano i primi sondaggi. Simona è in testa con il 68% dei voti, Federico il 20% e Alessio con il 12% rischia di essere il prossimo espulso. Quindi, voi chi state salvando? Siete d'accordo? Con il risultato dei sondaggi o avete una vostra opinione ben precisa. Scrivetelo nei commenti e condividete la vostra opinione. Chi pensate dovrebbe essere espulso e chi vorreste che rimanesse nella casa più osservata d'Italia? Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti sul Grande Sorellone e di lasciare un commento alla fine del video perché la vostra opinione è importantissima per noi. Vi leggiamo tutti. Grazie per averci seguito e a presto con un nuovo video.